ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi recensirò questo microscopio digitale della andor star modello ad 249 sm un microscopio digitale con diverse lenti che ci permette di ingrandire davvero di tantissimo guardate queste sono le cellule di una foglia ragazzi io sono sbalordito adesso lo metterò sul bancone ovviamente vi lascerò anche il link nel primo commento nella descrizione poter vedere prodotto sul sito e spero di ottenere anche un codice di sconto però voi vi chiederete ma che che cosa serve solo per ingrandire le foglie no è un microscopio che si può utilizzare per un milione di cose nel 99 per cento dei casi si utilizza all'interno di un laboratorio per esempio di chi si occupa di elettronica ma come vedete si può utilizzare per tantissimi scopi tutte quelle occasioni nelle quali c'è bisogno di vedere per bene da vicino per esempio chi fa collezioni di monete chi vuole ingrandire lo può utilizzare adesso guardiamo come è fatto prima di iniziare però diamo un'occhiata rapidamente al video dell'unboxing per farvi vedere quello che troverete all'interno della confezione quindi via con l'unboxing aprendo quindi la confezione all'interno troveremo una guida rapida un piccolo manuale di istruzioni che nel mio caso però non è in lingua italiana una protezione sulla parte superiore poi in alto ovviamente troviamo il display il monitor che ci permette di vedere quindi quello che il nostro microscopio riprenderà e nella parte posteriore al monitor troviamo il microscopio vero e proprio nei discompartimenti più in basso troviamo diversi accessori tra cui un contenitore un cavo per poterlo connettere al computer un paio di pomelli una micro sd alcune chiave a brugola delle viti una pinzetta e alcuni vetrini che adesso vi farò vedere un telecomando un cavo hdmi un altro accessorio dotato anche di un led nella parte interna per poter osservare attraverso il vetrino una parte che compone il supporto la base tutta in metallo un altro elemento del supporto e poi il cavo che ci permette anche di accendere l'illuminazione adesso passiamo subito al montaggio bene visto quindi l'unboxing adesso ho occupiamoci di vedere per bene come è fatto questo microscopio allora innanzitutto la struttura è molto solida stabile fatta davvero bene quindi abbiamo dei componenti in metallo con dei sistemi di regolazione in micro regolazione e questi cavi che servono sia per alimentare il dispositivo che per alimentare i led sia questo led che è un altro tipo che adesso vi farò vedere guardiamo come si regola innanzitutto l'altezza abbiamo tutti questi pomellini che si possono svitare da abitare più questo anello di fine corsa praticamente si svita si regola l'altezza e questo ci permette in base al tipo di ottica che utilizzeremo quindi la lente che andremo a montare di non andare a urtare sia contro la base che contro gli oggetti che dobbiamo analizzare quindi ingrandire si stop si mette il tipo in questo modo e abbiamo la sicurezza che questo sarà sempre il nostro fine corsa questa stessa asta e di forma leggermente conica infatti se io svito questo pomello e lo lascio andare verso giù comunque si termina sempre qua ed è una sicurezza in più poi abbiamo la regolazione quindi in alto e in basso più la regolazione in avanti e indietro basta fare scorrere questa parte che non è perfettamente cilindrica da questa parte piatta quindi in base a come viene posizionato potrebbe capitare che si muova a scatti come vedete questi cavi che vi ho fatto vedere poco fa sono tutti collegati a questa specie di telecomando che a sua volta è collegato ad una presa usb un normalissimo alimentatore per i cellulari come vedete da qua abbiamo un ingresso che ci permette di alimentare lo stesso l'ingresso per la micro sd da questa parte invece abbiamo un uscita hdmi mini hdmi più in basso abbiamo queste linguette che servono a bloccare eventualmente delle schede o qualunque cosa vogliamo analizzare e mantenere la ferma ma accendiamo e continuiamo ad analizzarlo mentre è acceso quindi vedete questo led di stato che ci indica che si sta accendendo compare la scritta welcome vi faccio vedere un componente elettronico ok possiamo anche zoomare perché il telecomando ci permette anche di ingrandire oltre a poterlo avvicinare ulteriormente quindi guardate questi sono dei micro granelli di polvere zoom o anche sul monitor così riuscito a vedere per bene e stiamo parlando di un componente piccolissimo di componenti piccolissimi prendervi conto ragazzi questa scritta praticamente qua nei paraggi ed è davvero microscopica guardiamo questa parte vicino a questo ingresso per la presa usb di tipo c e vediamo quindi come lo ingrandisce si vede tutto a meraviglia riesce ad ingrandire bene ma questo non è il massimo che riesce a fare perché cambiando lente riusciamo ad avere un ingrandimento microscopico secondo me a livello di laboratorio prima di passare agli ingrandimenti più complessi vi faccio vedere anche il menu questo display non è touch quindi ci permette di avere diversi comandi sia per quanto riguarda le impostazioni sull'immagine che per quanto riguarda lo stesso dispositivo quindi andiamo con il nostro telecomando sul meno e abbiamo la possibilità di decidere la risoluzione come vedete arriviamo fino alla ultra hd possiamo anche cambiare lingua scegliamo l'italiano quindi wifi impostazione linee griglia data e ora possiamo anche cambiare la frequenza formattare la memory card che viene data in dotazione da 32 giga abbiamo la possibilità eventualmente di aggiornare la versione del firmware oppure riportare tutto alle impostazioni predefinite quindi tornando alla schermata di poco fa abbiamo la risoluzione l'esposizione come vedete il timbro della data quindi questa è l'unica traduzione che non va benissimo la nitidezza contrasto il colore e basta queste sono le impostazioni base se andiamo però nella modalità fotografia anche in questo caso abbiamo la possibilità di modificare la risoluzione al massimo 24 megapixel e anche in questo caso abbiamo diversi tipi di impostazione tra cui il bilanciamento del bianco e colore liso per evitare di avere troppo rumore la nitidezza insomma tutte le varie regolazioni per avere un'immagine più nitida possibile tra l'altro parlando di wifi come avevo detto poco fa abbiamo la possibilità di cliccare su ok mettere on e verrà generata una rete wifi che viene comunicata con una scritta in sovraimpressione che ci dà la possibilità poi con il computer di connetterci sia tramite wifi oppure di connetterci con il cavo per collegarlo direttamente al computer ma togliamo quindi il wifi perché adesso non ci serve e concentriamoci sull'utilizzo con diversi tipi di lenti e guardiamo pure come si utilizza questo accessorio che va alimentato tramite lo stesso jack che alimenta questi led quindi lo stacco da qua dietro si spegneranno i led e una volta inserito quasi accenderà il led che troviamo qua dentro quindi farà dal retroilluminazione per poter vedere sia attraverso il vetrino che eventualmente anche qualcosa come questa foglia che come vedete nel caso della foglia posizionata con questa retroilluminazione ci dà la possibilità di vederla come se vedessimo attraverso quindi questa però non è il massimo ingrandimento all'interno di questa scatolina abbiamo altre lenti una serve per vedere molto da vicino quindi un ingrandimento davvero estremo e questa invece serve per vedere più da lontano come vedete qua abbiamo il riferimento quindi la distanza 90 mm 300 mm questa che montata forse la più versatile perché ci permette di vedere da 12 fino a 320 mm e questa che è la più piccola da 4 a 5 mm quindi dovete utilizzarla per forza con la retroilluminazione altrimenti l'illuminazione anche di questi led visto che molto vicino all'oggetto non riesce a far vedere per bene il tutto per poter cambiare la lente dovete svitare questi pomelli e la mettete al sicuro vi consiglio di metterla sempre con la scritta rivolta verso fuori in modo da sapere già da subito di quale lente quella montata ok quindi siete pronti a stupirvi guardate questa foglia guardate la differenza fra poco fa e adesso perché un ingrandimento sbalorditivo guardate un po facciamo un altro zoom allora questo ve lo faccio vedere tutto così io non so cosa siano queste sporgenze non so cosa sto riprendendo devo stringere bene ok allora guardate regolando la messa a fuoco riusciamo a vedere tantissime cose che prima non riuscivamo a vedere io non so se queste siano cellule non so cosa siano ci vorrebbe uno scienziato però guardate abbiamo delle forme simmetriche guardate questa qua ci sono delle cose su questa foglia che io non avevo mai visto non so di cosa si tratti e in questo caso come vedete in alcuni punti non mette a fuoco perché la foglia una superficie irregolare quindi posso utilizzare anche i pomellini e qua abbiamo questo strano mostro non capisco cosa sia che vive nella foglia è una foglia di incenso ragazzi questo ci fa capire quanto sia potente questo microscopio e allora siccome abbiamo questi vetrini ok io non so di preciso di cosa si tratti però mettiamolo sul vetrino e vediamo cosa riusciamo a vedere c'è forse pure un micro insetto non so cosa sia questa cosa ok guardate nuovo l'oggetto sotto vi faccio vedere è impressionante sto facendo dei movimenti di decimi di millimetro e abbiamo questa specie di mostriciattolo che non so cosa sia è meraviglioso lo tolgo stiamo parlando di questa micro macchiolina questa cosa minuscola proviamo a cambiare quindi vetrino mettiamo quest'altro ragazzi quasi vedono addirittura dei micro peletti essi mi sa che è una tela oddio cos'è questa cosa però penso che questa cosa possa stupire anche voi è qualcosa di minuscolo e la riusciamo a vedere praticamente tutto essi e infatti c'è scritto che una zampetta di un'ape e ragazzi quello che state vedendo adesso invece è carta abrasiva con una grana finissima quindi la muovo vi faccio vedere questo che vedete di colore bianco ovviamente sono micro particelle di legno tutto ciò che ho levigato e questa è la carta abrasiva in questione molto fina vediamo anche questa superficie del legno vediamo se troviamo qualche forma di vita è qualcosa di affascinante riuscire a vedere così da vicino si vedono le fibre del legno e come vi dicevo è molto molto difficile riuscire ad illuminare guardate quanti movimenti devo fare quando si utilizza questa lente che serve a vedere da vicino è molto molto difficile comunque ci rendiamo conto effettivamente che è una cosa un pochettino azzardata con l'altra lente quella che utilizzato poco fa si riesce a utilizzare senza nessun problema non riusciremo a ottenere questo rendimento così elevato e ovviamente sia tramite telecomando che utilizzando direttamente comandi sul monitor possiamo scattare una fotografia possiamo passare come avete visto dalla galleria fotografica quindi scorre tra le varie foto e vari filmati che ho fatto oppure possiamo passare alla modalità video o ancora alla modalità fotografia in questo caso ci permette scattare una foto quando invece siamo in modalità video premendo direttamente su ok riusciremo a registrare un video e da questa parte comparirà quindi il timer che ci informa del tempo trascorso quindi dalla durata dello stesso video che poi è possibile anche scaricare sul computer o mantenere la memoria del nostro dispositivo andiamo direttamente su ok e interrompiamo la registrazione quindi ci permette di lavorare vedere componenti elettronici le saldature insomma tutto ciò che serve all'interno del laboratorio per chi si occupa di queste cose io ne possiedo un altro sempre della stessa marca ve l'ho già recensito vi lascio il link sia di quello che ovviamente il link per poter comprare questo vi saluto vi ringrazio vi invito a mettere mi piace mettere anche segni di spunto dalla campanella ci vediamo tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto